Grandi guys, buona domenica a voi! Video velocissimo per dirvi che purtroppo non riesco a stare dietro tutti tutti i messaggi che mi scrivete Vi ringrazio tantissimo, qui sotto nella descrizione trovate la chat, telegram e la mia personale sia al gruppo sia su instagram Io cercherò di rispondervi perché sono tantissime le numerose richieste soprattutto adesso che sono in ambito crypto E soprattutto connettetevi al gruppo perché li posto molti ma molti aggiornamenti Per esempio vi parlo di questo esempio, in molti vi avete scritto per crypto.com che è stato bloccato, che ci sono stati un po' da rifare di nuovo gli accessi Tranquilli, io molte volte che capita vi aggiornerò in futuro se mai capiterà qualcosa agli exchange o qualcosa di criptovalute Ovviamente non sono mai consigli finanziari e sono sempre video che faccio di mia esperienza personale, nessun consiglio finanziario Trovate tutti i link qui sotto, sul canale vi aggiornerò in caso ci fossero bug e errori Quindi connettetevi al gruppo, vi auguro una buona domenica perché non riesco a stare dietro tanti messaggi Soprattutto con il lavoro e tutto, quindi vita anche personale, privata, non ci sto tanto dietro Però cercherò di rispondervi a tutti a breve Se vi connettete al gruppo avete sempre notizie in tempo aggiornato e per qualsiasi domanda cercherò il più presto Grandi guys, buona domenica e alla prossima sul canale Ciao Ciao